Siamo su Fortnite con i miei amici Sì, però non è colpa mia se ci mette sempre una vita a caricarmi il gioco No, perfetto E le va a sto gioccolò, no Sono 50, non lo so Ma non è iniziato Sì, praticamente non è iniziato E poi mi vedo Cristian E basta Mamma mia, faremo di sicuro Vittoria Reale Sì, bello Ma guarda caso proprio adesso mi devi laggare Guarda caso ho visto un giocatore Sì, vabbè, però tu, lei non si è neanche venuta rapida, sei tattivo Qualcuno ha provato a farmi A prima si sentono le nostre voci? Mamma mia, se si sentono Cristian Mi senti, credi? A prima tu mi senti? Fede nel video si sente la tua voce di un sacco Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Sì, però, dai, ma che ne ce lo gioco? Preghi, non fai apposta, sei stupido Io? No, non fai bene Ah, wow No No Vedi qui, stupido No No, vabbè Vai, credo Mamma mia, lei Ma, una domanda, che cos'è lo scatto? Non sa neanche Ci sta uno, Cri, ci sta uno, Cri No, mi sta laggando Ma ci sta uno Lo so Lo sta venendo da noi Oh Tranquilli, ho due pompa Dobbiamo essere veramente Dobbiamo essere veramente Dobbiamo essere tranquilli Sì, con lui in casa Che vaga Facile, hai capito Ma dove sta? Tutti i giorni così, mi piacerebbe? Ma, voi, voi Eccolo Sono tutte e due A terra Ammazzatelo Mio Sì Oh, ma io sono Me lo vedevi tutti Ci sta in alto Oh, però Eccolo È chi No, Cri, non mori No, Cri, aiuto Cri, aiuto Aiuto, aiuto Cri, aiuto No, prima Mamma mia Mamma mia Raga, tu resta dove sei Ciao, tizio Ti vengo io da te No, ma sei un brutto tizio Oh, raga Le posso fare Le posso fare io Eeeh, un'altra partita Allora, ragazzi Missione, fare vittoria reale Raga, dove si va? Dove, dove Perché? Dove, dove Ma tu gliel'hai detto Dove si va, raga? Non si piaceva Forse i commerci Ma io non ci vado Raga, per me è quello Per colpa del mio fratello Per colpa del mio fratello Alza, fa niente Continua a giocare con noi Ti prego Non posso Lo dico Oh, oh Emanuele è la casa più grande Vabbè Ragazzi La missione è fare vittoria reale Perché se no Il vino viene uno schifo Eh? La mia dose La giallo Facciamo il bordello Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Aia, aia, aia Ragazzi, c'è uno che sto prendendo piccolate No, aiuto No No, ma non è il tempo di sperare Morite Morite Emanuele non gioca più Perché? Perché? Mi sta facendo morire apposta No, io non lo faccio apposta Ok Ok Ma io ho detto Ha detto Morite, morite L'ho sentito Tiragli uno schiaffo, Ema Ma c'è, sta da parte di Christian Mi fa Cri, scusa Ma non Ha detto che devi morire Non è vero Scherza, ha detto scusa Ma dai, come avete fatto a morire? Oh che vuoi, io vado in una casa Vado in una casa No, no, no Sto cercando l'arma E poi mi arrivano in 5.000 Mi arrivano in 5.000 E certo che poi muoio Ovvero nessuno Dove andiamo? Io andrei a Io vado qua Pinnacoli Io vado qua Guardate Io ho messo il puntatore Io ho messo il puntatore Io vado qua Ma non ho capito Dove si va? A Pinnacoli A Pinnacoli Oddio A Pinnacoli moriamo in 3 secondi Cioè Volete vedere che non appena conto 3 moriamo? Oh Non è vero Sicuro? Uno Due Tre Di solito ci faccio Ecco come si giova nel Nell'iPad Fede Non lo so Vedi Io ho già due armi Io ho una Credo Dove sta il baule? Non c'è il baule che smitto di casa Fede A credito St'estate Continua a giocare A fortuna Ma secondo te? Cioè Veramente mi hai fatto Questa domanda? Uh Busta fuori Sono un appassionato di videogiochi L'estate è proprio il momento dove gioco dalla mattina alla sera Oh sua mazza L'ora è? Nooo Ho visto sta partita è finito Va bene No Già avevo la scar No raga Sì Adesso vengo ad aiutarti Se ce la farò Ciao Svora Chris Ho sentito uno Porta Chris Porta Chris Ma i Chris Stai Stai Ah Ma che c***o C***o Mamma mia Dove andiamo? Lande Lande All'Ande All'Ande No Non c'è Eh sì Dovete aiutarmi In questa situazione Perché dovrebbe esserci Comunicato da queste parti Adesso sono arrivati i medici Per soccorrere il signore Ha iniziato lui eh Non sono mica un assassino Dio Diciamogli sì Danna Tu vuoi dare una mano? Aiutati a cercare la vita Perché Sono più nascosti del prezzo Sto ma 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 Brava Facciamone un'altra Di partita Ok Io e te No no Tutti Ok No no Sto Allesto Arrivando Allesto Arrivando Ragazzi Due pistole Che mi potete Da Una Minican Che bello della vita Bu No Non la voglio No Come no Allora Sì Sono Io sono Morto Mamma mia Sì Ma almeno Ma almeno Un po' Un po' Puoi Convertere Chi Quello La Cristian È morto Prima Oh Io ci provo Però Mi arrivano In duemila Palma Che loro L'abbiamo Più Un po' Non Ma Ha chiuso Il video Ha chiuso Il video Un secondo Torno Subito Va bene Ragazzi Concludo Il quale Episodio Spero Che vi sia Piaciuto Vi ricordo Sempre di lasciare Like Iscriver Al canale E condividere Il mio canale Con i miei Amici Così Si iscrivono Anche loro E noi Ci vediamo In un prossimo Bisogno Ciao Ciao Grazie per la visione!